Allora, piccolo refrain sulle dichiarazioni di Comisso e Barone su Chiesa. Allora, Chiesa tu sei la fiorentina? No, Chiesa non è la fiorentina, non è la fiorentina Chiesa. Non perché a me stia antipatico, non mi sta neanche simpatico, ma non può un giocatore essere una squadra. Non può un giocatore di quanti 22-23 anni a farla grande essere una squadra che ha secoli di storia. Chiesa non è la fiorentina. La fiorentina non è neanche battistuta, per certi versi, la fiorentina. La fiorentina è un elemento a sé stante. La fiorentina è la quinta squadra della storia della Serie A, la prima finalista di Coppa Campioni della storia del campionato italiano. Chiesa non è la fiorentina Chiesa, è un buon giocatore di un particolare momento storico della fiorentina. Sacrificabile, sacrificabilissimo. Chi oggi si sbroda, si sbrodola su questa conferma del Chiesa quale uomo simbolo della fiorentina lo aspetto il 31 agosto per vedere che squadra avremo. Io non mi faccio prendere da queste demagogie, da questo dimostrarsi rivali della Juve, poi non confermato dalla qualità della Rosa, che ad oggi è da difficile salvezza. Non me ne frega niente di essere rivale della Juve per nulla, vorrei essere rivale della Juve con una squadra capace di esserlo sul campo, ad oggi non è assolutamente così. A riprova che abbiamo un tifo completamente immaturo, capace di farsi prendere dalle prime dichiarazioni demagogiche di qualsiasi tipo di referente o di aderente alla squadra, è questo tipo di comportamento. Non me ne fregherebbe niente di vendere Chiesa se questo comportasse l'acquisto di giocatori importanti, così come credo che confermare Chiesa a fronte di una squadra mediocre sarebbe un suicidio tecnico tattico per lui, per noi. Io per certi versi anche capisco Chiesa che se ne vuole andare, non c'entra nulla la riconoscenza, non c'entra nulla il dire chiaramente di voler andare via o di restare. Queste sono cose sentimentali che lascio agli immaturi, che popolano in larga parte il tifo fiorentino. A me interessa il bene della Fiorentina e della mia squadra. Se Chiesa vuole andare via ha tutto il diritto di avere il diritto di andare via, è un giocatore di talento, è un giocatore che può volere, anche sbagliando magari, ma non me ne frega nulla, la voglia di confrontarsi con altre piazze. Io sono tifoso della Fiorentina, non di Federico Chiesa, mi interessa avere una squadra forte, aspetto tutto il 31 agosto. Se il 31 agosto avremmo una squadra forte al livello di Chiesa, va bene, ci poteva stare. Se il 31 agosto avremmo una squadra mediocre in cui la permanenza di Chiesa è stata solo una mossa demagogica per far capire di essere presenti o degli pseudo rivali della Juventus a fronte invece di un cambiamento che non è arrivato, questa sarebbe e sarà l'ennesima dimostrazione di grandissima immaturità da parte dell'ambiente tifo fiorentina, che ogni giorno purtroppo in larghe parti mi delude sempre di più. Mi manca della Valle, mi manca Panerai, viva della Valle, viva la Confindustria di centro-sinistra, grande Diego, grande Andrea, grande Panerai, meno esteriorità, meno dichiarazione.